Sabato 29 ottobre 2011, l'alba di una nuova, elettrizzante stagione per il più grande Hard Festival della Capitale, Return Industrialized. Dalle 23 alle 6 del mattino, International Guest Star, Matt Weaselbusters, Fratz Bass, DJ Vortex, Oppressor, Masterful, Carnag 744, Francesco Noyes, Roger. Sabato 29 ottobre 2011, Industrialized, TV & Technotic Styles Party, al Villaggio Globale, Lungotevere Testaccio, Roma, ingresso 6 euro. E inoltre, a partire dalle 18, il Villaggio Globale presenta DJ Industri 2011, lo stage gratuito per tutti gli aspiranti DJ e produttori.